Musica Una buona giornata, bentrovati, benvenuti a Dentro la città. Sono le ore 13.05, siamo in diretta al canale Il 14, Telenova, benvenuti. Oggi puntata speciale, come detto non parliamo di politica, che invece spesso è presente come tema nel nostro salotto. Invece parliamo di un tema che riguarda tutti quanti e che è fondamentale per la buona riuscita della vita quotidiana e quindi per il buon funzionamento di una città e quello della raccolta rifiuti ma non solo i tanti servizi che l'AMSA, che è appunto la società che se ne occupa a Milano, si produce appunto nella città meneghina. Allora, Sonia Cantoni, presidente AMSA, benvenuta, grazie di essere qui presidente. Altro presidente, ma di altra faccenda, è Dario Guazzoni, Anaci, Milano, bentrovato. Buon pomeriggio. Mauro De Cillisi invece responsabile operativo per quanto riguarda l'AMSA, quindi la parte un po' più tecnica. Gian Mario Mocera invece presidente Federconsumatori, bentrovato. Signori, il tema che in questo momento più di altri coinvolge AMSA, tutti noi, e che fortunatamente sembra essersi risolto al meglio è quello della neve. Io volevo in poche battute commentare questo che è successo. Quest'anno per fortuna le precipitazioni sono state importanti, ma non come in altre, come l'anno scorso per esempio e l'anno prima, e quindi sembra che tutto stia svolgendosi al meglio, in modo regolare. Beh, finora non ci sono stati particolari disagi, da una parte perché appunto le precipitazioni non sono state intensissime, anche se sono state significative e particolari, e una particolarità sta nel fatto che nei prossimi giorni sono attese temperature molto basse, quindi anche se non è caduta molta neve, l'importante era rimuoverla il più velocemente possibile, in modo tale che non rimanesse sulle sedi stradali, sulle altre aree di uso pubblico, e quindi gelando potesse quindi evitare. Quindi sale, abbiamo visto 180 mezzi in giro di AMSA, più le persone che fisicamente hanno spostato dai marciapiedi o da dove altro la neve. Una polemica piccola in realtà, ma che è nata qui ieri, una persona che telefona e dice L'AMSA quest'anno, a differenza degli altri anni, non ha dato la possibilità alle persone che volevano di partecipare alla pulizia della neve, quindi era un piccolo aiuto per il lavoratore, per il giovane, per il disoccupato, per chi altri, che magari per 3-4 giorni poteva lavorare, invece si è dato spazio ai dipendenti, dandogli più straordinari. È così? No, non è così. Intanto, comunque un piccolo aiuto ci è pervenuto da delle cooperative, anche sociali, che hanno lavorato molto bene in relazione ai punti sensibili della città. Ovviamente la precipitazione è stata tale che non ha richiesto l'impiego di avventizi come è successo in altri casi. Peraltro il nostro personale, rispetto all'anno precedente, ha eseguito, la città è divisa in 50 lotti, in realtà perché c'è il lotto delle corsie preferenziali, 9 di questi lotti sono stati eseguiti da personale AMSA, differentemente dagli anni precedenti. Questo è un aspetto significativo perché ci ha consentito, nella gara di assegnazioni di lotti, di ridurre di più del 20% i costi che avevamo fino all'anno passato. Ah, quindi sono una riduzione dei costi, ma qualora arrivasse un metro di neve, gli spazzatori avventizi, così si chiamano, possono tornare a lavoro, anzi verranno chiamati. Assolutamente, speriamo però che non accada. Speriamo di no, perché costa tanto, per voi è un costo, quando vedete la neve vi viene male la pancia. Soprattutto per l'amministrazione comunale è un costo. E i cittadini. Ricordiamo un passaggio sulla neve, poi andiamo alla questione dei rifiuti, che è quello invece che coinvolge le portinerie e i condomini anche, no? I portinai hanno per contratto, quelli che hanno aderito a questo supplemento, l'indennità spalatura neve quando nevica e perciò il metro e mezzo sul fronte della casa è stato fatto dai portieri. Se i portieri non hanno voluto l'indennità neve quando è stato firmato il contratto singolo, abbiamo mandato delle imprese di pulizia a pulire il metro e mezzo, che è il pezzo più battuto. Dove non ci sono le portinerie i colleghi hanno mandato le imprese di pulizia, che fanno il servizio di pulizia delle scale, di pulizia del lato e il servizio delle mondizie. Quindi devo dire che per quanto riguarda i portieri o i dipendenti dei condomini, nel 90% il lavoro è stato fatto, io ho girato abbastanza a piedi, anche da casa a studio, poi per fare qualche giretto e ho visto che i marciapiedi... Quindi se un marciapiede sporco non era necessariamente in capo all'AMSA, magari era un portiere che non ha fatto un mestiere. Un metro e mezzo di larghezza consente ampiamente di camminare con tranquillità. Io non so se i consumatori hanno fatto qualche ricerca riguardo neve, non credo, però insomma, no, neve non ne avete fatto. Però insomma, che si andasse in giro facilmente, questo mi sembra anche perché appunto non era troppa la neve. Allora, intanto facciamo vedere qualche immagine sul lavoro dell'AMSA, parliamo invece di rifiuti perché quello è il lavoro principale ovviamente, quello che rende la città pulita, come l'abbiamo chiamata noi. Diamo magari qualche numero, credo che De Cilis mi possa aiutare meglio, qualche numero della raccolta rifiuti a Milano e soprattutto con le novità che sono state introdotte. Si parla di sacco trasparente invece che sacco nero, semplice, niente di straordinario, ma dietro c'è un grande lavoro. Sì, noi l'anno scorso abbiamo raccolto circa 780 mila tonnellate di rifiuti, ovviamente complessivamente, la percentuale di raccolta differenziata è del 34,4%. Il sacco trasparente che è la novità più immediata che è stata firmata oggi l'ordinanza, è una... Oggi proprio è stata firmata? Credo di sì, non ricordo male, che dovrebbe essere avviato dal 15 febbraio e avrà però la possibilità per un paio di mesi di utilizzare il sacco nero per dare anche modo agli amministratori di consumare le scorte e l'azione propedeutica ha il miglioramento della raccolta differenziata in generale perché con questa azione noi pensiamo di migliorare il recupero della carta e del vetro oggi presente all'interno del sacco nero, una modalità diffusa anche utilizzata nell'intera milanese e ovviamente è propedeutica perché aiuterà nel momento in cui introdurremo la raccolta differenziata dell'organico di recuperare le quantità oggi presenti nel sacco nero. Quindi diciamo che rendere trasparente il sacco contribuisce a rendere più virtuoso chi butta dentro la roba non si può più ingannare, insomma, no? Ha un duplice effetto, uno di deterrenza, quindi preventivo, nel senso che induce una maggiore attenzione e un maggior rispetto delle regole e dall'altra parte agevola il nostro lavoro di controllo sui conferimenti. Quindi questa è l'idea di base. Mentre per quanto riguarda la raccolta dell'umido andiamo più avanti. Abbiamo presentato al Consiglio Comunale una proposta circa due settimane fa che è stata discussa e l'abbiamo presentata insieme all'assessore Maran. L'assessore Maran ci ha chiesto di confrontarla con la città e quindi partiremo nelle prossime settimane a un confronto con la città sia con i consigli di zona che con le associazioni, che con i cittadini. Cercheremo di raggiungerli anche attraverso i nuovi strumenti, la rete, i nuovi strumenti di comunicazione, quelli che fanno di Milano una comunità, anche se è un luogo molto vasto. E poi presenteremo la proposta che sicuramente verrà migliorata da questo confronto all'amministrazione comunale per approvazione. Siccome speriamo questa proposta verrà accolta all'interno del contratto di servizio partiremo entro la fine dell'anno. Cosa dicono i consumatori del servizio della raccolta dei rifiuti, che non è solo la raccolta dei rifiuti ma è tante altre cose, lo smaltimento amianto per esempio, la pulizia delle scritte, tante cose fa AMSA però in generale. Intanto AMSA è una grande impresa e quindi la metto in premessa perché magari faccio un po' il bastian contrario, dico qualche cattiveria su AMSA. Stiamo parlando di una grande impresa che è cresciuta con la città nel tempo, ha più di 3.000 dipendenti, ha diverse attività di raccolta differenziata, si legge abbastanza bene nel loro sito tutta la loro attività. Quindi stiamo parlando probabilmente di una delle società più importanti nel nostro paese. Detto questo abbiamo qualche critica, soprattutto nel metodo con il quale si confronta AMSA con le associazioni dei consumatori. La legge prevede che per esempio nella scrittura delle carte dei servizi, le associazioni dei consumatori devono essere chiamate a scrivere insieme alla società la carta dei servizi. Questo oggettivamente fino adesso non è mai avvenuto. C'è stato un passaggio. C'è la carta dei servizi per spiegare? La carta della qualità dei servizi. La lista delle cose che vanno fatte che la cittadinanza e i consumatori ritengono importanti. Esatto, è il documento che certifica il contratto di servizio che c'è stato col Comune, quali sono i servizi che ci sono, che AMSA deve dare alla città attraverso appunto il contratto stipulato col Comune di Milano, è la cartina di Tornasola. Quindi voi dite non è stato siglato con i consumatori ma è stato solo dato ai consumatori? No, noi abbiamo avuto credo ai primi di dicembre un incontro con AMSA che ci ha presentato una carta dei servizi che hanno scritto loro, che non abbiamo scritto noi, che può essere anche condivisibile in parte, in parte invece abbiamo delle obiezioni. Questo è, tenetevelo, ho capito, chiarissimo, il Presidente potrà rispondere, prego. Allora, premesso che considero la carta dei servizi uno strumento di comunicazione importante con i cittadini e un modo per rendere conto di quello che facciamo, visto che le nostre risorse vengono dai cittadini, modo prezioso. Detto questo, io sono Presidente da giugno di quest'anno, quindi rispondo direttamente per quanto succede a questo periodo. Voglio sottolineare per il periodo precedente che io non ho vissuto, che AMSA si è dotato di una carta dei servizi da tempo e questo non è comunque comune tra le aziende che gestiscono i servizi di igiene urbana in Italia, non è la regola. Ma non volevo mettere in discussione questo. Detto questo... Ha fatto un sacco di premesse. Detto questo, stiamo proprio definendo, stiamo proprio inviando in questi giorni una comunicazione alle associazioni dei consumatori per proporre di incontrarci subito dopo il 20 di febbraio, intorno agli 20 di febbraio, per cominciare un percorso che sia di reale condivisione dei contenuti e dei modi della carta dei servizi. Quindi sì, è una cosa che si farà. Avete un bel bimbetto giallo sul tavolo. Sono felice. Bene, bene che così... Anche perché non c'era poi quando si scatena, adesso sarà lì attento. Breve interruzione, poi chiedo anche ai condomini e ai condomini come vedono il lavoro di AMSA. Breve interruzione. Voglio sentire la vostra voce, il numero per intervenire è in sovraimpressione tra poco. Di nuovo in diretta parliamo di AMSA, di pulizia, di riciclaggio, di tante cose. Pronto chi è in linea? Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Saluto tutti, sono Giovanni Di Precotto. Oh, Giovanni Di Precotto, come sta? Io volevo dire, è quella signora lì dell'AMSA? Ecco, sì, beh, è la Presidente, non è quella signora lì dell'AMSA. Ma al minimo, santo cielo, dica... Sulla roba, fanno un po' schifo. Che cosa? E le spiego perché. Eh? Se in certi posti, quando c'è un mucchio di cartone, specialmente Natale e compagnia briscua, io non riesco mica a capire, perché non mandano mica in giro, un camion che prendono su solo il cartone e lo buttano su tutti insieme. Eh, invece che... Parliamo poi, non parliamo poi delle trattorie, compagnia, perché è uno schifo che c'è dentro di tutto e voi altri non dite mai niente. Cioè, dice... I mercati all'aperto, i mercati all'aperto, lo sapete bene, che buttano tutto assieme, carta, plastica, frutta, non c'è mai stato nessuno che ci dice quella gente lì, questo è il sacco bianco, mettite dentro la frutta, questo è il sacco verde... Ha dato tanti argomenti, questo del mercato vedo annuire da questa parte, quindi ha colto nel segno. Grazie Giovanni, proviamo a rispondere ai suoi dubbi. La prima parte sul cartone, un po' poco chiara, non ho capito, la Presidente forse sì? Sì, noi abbiamo attivo un circuito di raccolta differenziata della carta, domestico, presso le abitazioni, poi i cittadini possono conferire alle riciclerie e poi abbiamo anche un mezzo mobile che gira per la città e che dà informazioni sulla raccolta differenziata e può accogliere anche i rifiuti, di solito rifiuti di piccole dimensioni, visto che non è sterminato lo spazio a disposizione, comunque è utile anche per quello. Sappiamo che questo problema del cartone c'è, nel senso che troviamo tanto cartone non collocato nei contenitori che sono deputati alla raccolta differenziata, ma lasciato accanto ai contenitori, non ripiegato, questo fa che sì che siccome noi svuotiamo questi contenitori con dei mezzi meccanici, doppio scomparto, di sopra ci raccogliamo il vetro e di sotto la carta, non riusciamo poi a caricare manualmente questi cartoni che vengono lasciati accanto, quindi finiscono adesso accanto al rifiuto indifferenziato e con questo sono raccolti, quindi conferiti all'inceneritore e comunque si recupera energia, ma stiamo per avviare un circuito di, stiamo progettando un circuito di raccolta della carta proprio dedicato a queste frazioni che ancora ci sfuggono. Perfetto, quelli troppo grandi che sfugge, e il mercato invece diceva? Il mercato, il cittadino ha ragione, il tema dei mercati scoperti e del rifiuto accumulato tutto insieme è un problema annoso, dove noi unitamente all'amministrazione comunale in varie riprese abbiamo eseguito delle sperimentazioni che purtroppo sono sempre fallite, ovviamente adesso stiamo riprendendo con l'assessore D'Alfonso il tema per vedere di sperimentare la possibilità di attuare la raccolta differenziata, è indubbio che è un mestiere difficile quello di riuscire a combinare le esigenze di raccolta differenziata, noi abbiamo contattato anche ad esempio il consorzio che raccoglie gli imballaggi della plastica e si è reso disponibile per fare la raccolta differenziata, abbiamo l'idea di consentire agli ambulanti di effettuare separatamente l'organico così come abbiamo sperimentato, li doteremo di sacchi che possono essere recuperati e ovviamente per far ciò la disponibilità di AMSA c'è, ci deve essere ovviamente la disponibilità di tutti. Certo, quindi vuol dire degli ambulanti e di chi è preposto in quell'organizzazione di quella mattinata o insomma pomeriggio. Chiedo invece a Guazzoni come vivono gli amministratori, quindi parliamo un po' in generale dei condomini, il lavoro di AMSA e quindi della raccolta dei rifiuti e tutto quanto con c'è. Io oltre che da amministratore e da cittadino devo dire che il servizio dell'AMSA a mio giudizio è quasi buono, non diciamo perfetto perché ognuno di noi ha dei punti negativi e poi la città è grande, però i cittadini hanno dei riguardi, convogliano i rifiuti nei vari tipi di sacchi, però tutte le mattine AMSA passa con regolarità e quindi la città da quel punto di vista lì direi che è tenuta bene. Per quanto riguarda i mercati invece la mia esperienza, io lo studio a Porta Romana dove venerdì c'è un grosso mercato la mattina, devo dire che il pomeriggio la via è chiusa e passano i camion dell'AMSA a fare le pulizie. La pulizia alla fine giornata c'è, c'è quel problema della differenziazione. Quindi devo dire che il rilievo che ha fatto quel signore prima che ha chiamato è giusto in parte. I cittadini tante volte sono disordinati e buttano quello che non dovrebbero buttare per strada, però a mio giudizio dei colleghi il servizio dell'AMSA è positivo. Sentiamo la telefonata di nuovo in linea, in diretta. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego signora, come si chiama? Sono Sandra di Milano. Sandra di Milano, benvenuta. Ecco, buongiorno. Senta, io però non è per questa cosa, è per la sanità. Eh, che c'entra Sandra? Che ci facciamo con la sanità? Chi è che risponde qua? Non c'è nessuno. Provi, dica lo stesso, dai, in un minuto. Se mi dà un numero per una mala sanità me lo dice. Allora faccia così, signora cara, facciamo così. Adesso passa un numero in sovraimpressione, oppure ci guarda sul canale 664, che siamo sempre in diretta. Sì, lo so, lo conosco bene. Eh, vede, bene. Allora lì, spesso e volentieri, guardi che passa anche la scritta adesso, vede, dice di guardare sul canale 664, il numero è sempre in sovraimpressione, si parla spesso anche di sanità, così ci sentiamo lì. Va bene signora? Però, volevo dirci, è in diretta? Chi? Adesso? No, in questo momento no, se no non possiamo stare, però è spesso in diretta, a partire dalle 15 oggi siamo in diretta. Allora alle 3 posso? Brava signora! Bene, sì. Allora, grazie della telefonata, e vabbè, insomma è il servizio anche questo, noi facciamo servizio sul servizio, no? Ma c'è una questione che coinvolge invece i condomini, così andiamo a spiluccare anche nel dettaglio, che è quella delle multe, non so come funzionano, magari lo può spiegare. Spesso il condominio riceve una multa perché non ha diviso meno. Sì, io stamattina ne ho ricevuto una, naturalmente 64-65 euro per mescolanza nel sacco di materiale che non deve essere messo, diciamo che facendo una statistica la maggior parte dei palazzi non ricevono multe, ci sono dei condomini che sono proprio segnalati. Può dire che sono bravi? Può dire che sono bravi, poi i portieri che fanno il servizio di raccolta, di chiusura dei sacchi, tante volte controllano e se vedono qualcosa che non deve essere messo in quel certo sacco, magari mettendosi i guanti, i guanti li fermiamo con una certa frequenza in modo che non abbiano le mani, insomma, in mezzo alle immondizie, provvedono a smaltire. Ci sono invece altri casi dei condomini che sono recidivi dove arriva una multa al mese. Mettiamo fuori degli avvisi in portineria la fotocopia della multa, però in certi condomini, nonostante siano da ritenere persone di buona levatura, le multe arrivano. Anch'io stamattina un condominio in medio centro ne riceve almeno uno al mese. A fine anno 700-800 euro di contravvenzioni. Ma vuol dire che in questo caso sono i controlli molto accurati e quindi beccano sempre lo stesso condominio oppure poco accurati perché dovrebbero essere molte di più le multe? Come le definiamo? Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio e il lavoro di controllo e di sanzione è uno dei lavori che dobbiamo svolgere. Io posso dirvi che nel 2011 abbiamo fatto controlli a seguito dei quali sono state date 52 mila sanzioni pecuniarie. Riguardano violazioni di articoli, di obblighi previsti dal regolamento comunale per quanto riguarda il decoro urbano che vuol dire cacchi dei cani sui marciapiedi, sacchetti sopra cestini. E lì viene multato nell'immediato, cioè deve esserci qualcuno che coglie in flagranza. Allora è difficile cogliere in flagranza perché noi dovremmo seguire il proprietario del cane fino a quando non succede l'evento. Ma possiamo di solito noi agiamo in questo modo, cioè chiediamo se, siccome uno degli obblighi del regolamento è quello di raccogliere, ma previamente di dotarsi del sacchetto o dello strumento per raccogliere la dediezione. E quindi noi verifichiamo se il cittadino è dotato di questi sistemi. Ora, all'inizio appena è stata questa regola, quando la regola era nuova abbiamo beccato molti cittadini che non si erano dotati di questo strumento. Ormai questo obbligo è noto a tutti. Ma la multa come funziona? Non sempre lunga. La persona detta alla raccolta del rifiuto deve guardare quello che c'è dentro? No, c'è proprio una squadra di accertatori che hanno il compito nell'arco delle 24 ore di andare a verificare tutte le tematiche attinenti al regolamento di igiene. Ovviamente il mattino sono impegnati nella raccolta, quindi si recano direttamente presso il condominio, aprono anche i cassonetti a volte, il cassonetto dalla carta, e verifichano che non ci sia all'interno ovviamente del materiale che non c'entra nulla. Ricordo, perché è un passaggio importante, che la qualità della raccolta differenziata determina il corrispettivo che non tanto viene regolato a AMSA, quanto va a scomputo dei servizi del Comune di Milano. Quindi è un aspetto importante questo della qualità della raccolta differenziata. Quindi ci si guadagna tutti a dividere bene il rifiuto? Assolutamente, ci si guadagna in primis il Comune di Milano e i cittadini. I consumatori e le multe in questo caso devono andare d'accordo perché si vede quello che c'è dentro nel sacchetto? Non so se avete riscontrato problematiche. Due cose, sempre ritornando un po' a quello che oggi è il mio ruolo in questa trasmissione. Allora, ritornando alla carta dei servizi, perché questo aspetto, noi abbiamo analizzato la carta dei servizi, ci siamo fatti anche aiutare dall'Università di Bicocca di Milano, perché con loro abbiamo una convenzione che vogliamo studiare le carte dei servizi di qualità delle società. Fino adesso abbiamo affrontato ATM e abbiamo visto anche la vostra. C'è da dire, per esempio, che nel sito di AMSA è presente la carta servizi del 2009. C'è stata presentata la carta servizi del 2011, a novembre, quella di cui ho detto che non abbiamo nessuna discussione. E quindi siamo in presenza di una vecchia carta dei servizi. Ma noi abbiamo analizzato quella nuova che ci avete dato, che non è mai stata messa nel sito. Sì. Ok? Sì, sì. Allora, in merito per esempio a questa cosa delle multe, nella carta di qualità dei servizi non sono chiaramente indicate le modalità con le quali vengono date le sanzioni. Cioè le sanzioni degli utenti in caso di modalità non corretta del conferimento dei rifiuti o le sanzioni a carico dell'azienda, qualora appunto non adempiesse a quello che è il suo compito. Quindi questa cosa delle multe, dalla nostra analisi, risulta che non è molto chiara, non è molto trasparente. E comunque la carta dei servizi fa molto riferimento al sito, vai a vedere al sito. Invece dovrebbe essere un documento più completo. Quindi dovrebbe essere un documento completo. Chiarissimo, chiarissimo. Adesso poi proviamo a spiegare come funziona. Io posso fare un intervento. Prego, prego. La signora ha detto che l'anno scorso sono state date 52 mila multe. Esatto. A Milano, salvo errori, ci sono 53 mila utenze dell'acqua potabile. Una più o una meno. Quindi 53 mila utenze dell'acqua potabile equivalgono più o meno a 53 mila stabili. Quindi sono 53 mila stabili a Milano, a uso abitativo, industriale o commerciale, che portano le immondizie fuori in strada. Quindi 52 mila multe, una multa per immobile. Quindi Milano è una città virtuosa. Certo. Da quel punto di vista. Certo. Di più, perché poi qualcuno è stata data alla persona che portava il cane in giro, che non è neanche uno stabile. Quindi fa tutto parte. Un conteggio molto. È una divisione multa al singolo e multa allo stabile. Comunque fu magari un conteggio molto approssimativo. Certo. Però, però... Però... Bisognerebbe vedere quanti sono i controlli, perché se sono tutti i giorni, tutte le sere... Questo è anche vero. È anche vero. Manca un resoconto. Una volta l'anno è diverso. Manca un resoconto. Che cosa? Cioè, adesso sono state date delle informazioni importanti da parte del Presidente, quindi sono certo che sono quelle. Ma manca un resoconto. Cioè, lo sappiamo adesso. Non c'è scritto nel sito o nella Carta della Qualità dei Servizi che tipo di sanzioni sono state date, quante sono state date, quali sono state... Adesso proviamo a fare chiarezza. No, no, sicuramente, non c'è dubbio che adesso avrò una risposta, ma se noi dobbiamo dialogare con i cittadini, con la città, è opportuno che una serie di informazioni vengano veicolate ai cittadini. Arrivino, chiarissimo. Devo mandare la pubblicità ai telespettatori che sono in linea. Chiedo di pazientare un attimo. Dura soltanto pochi minuti, poi ci ritroviamo in diretta e ci parliamo. Tra poco. Dura soltanto pochi minuti, poi ci ritroviamo in diretta e ci parliamo. Buongiorno Fumagalli, sono sempre Giampiero di Piacenza. Buongiorno Giampiero di Piacenza, dica. Vorrei non essere monotono, ma la vostra è l'unica trasmissione che funziona. Oh, bene, lo dica a tutti, lo dica. Non mi restate che voi. No, no, lo dico liberamente. C'è molta gente che fa meglio cambiare mestiere. Dica Giampiero, dai. Volevo chiedere in specifico ai rappresentanti dell'ANSA, che poi penso che sia analoga alla nostra ENIA o IREN, come vogliamo chiamarla. Sì, insomma, è la società che si occupa della gestione dei rifiuti. Ecco, un particolare molto vecchio. È già da tempo che mi sto domandando questo particolare. Come mai che si incita il cittadino a fare determinate operazioni, la raccolta differenziata, cioè adottarsi in un testo impegno, quando poi la bolletta non diminuisce per dire, cioè il disturbo è nostro, il disturbo è uno e il guadagno è l'altro. Non è che il cittadino che si comporta diversamente, viene incentivato per collaborazione o per agevolazione, così. Pagano uguale, per cui chi me lo fa fare non è di prendermi certi disturbi. Io metto tutto assieme, vado a cercare il cassoletto verde e ti butto dentro il sacco al completo. Cioè, lei ne fa una questione, credo, anche di latitudine, nel senso, se al nord siamo bravi, non ci guadagniamo niente, perché la bolletta la paghiamo uguale, in questo senso qua. Proviamo a rispondere. Grazie Giampiero, grazie della telefonata. Buongiorno, grazie. Allora, premesso che la tassa rifiuti non la stabilisce AMSA, ma la stabilisce il Comune, premesso che come cittadino mi risulta che la tassa rifiuti a Milano sia ferma da un po', quindi non sia stata aumentata negli ultimi anni, in effetti ci sono altre amministrazioni in Italia che non applicano la tassa, ma applicano la tariffa, che è un modo più trasparente e più efficace anche ai fini del miglioramento dei comportamenti dei cittadini per stabilire il costo a carico dei cittadini dei servizi che noi svolgiamo. La tariffa evidenzia gli elementi di costo e va ed è, diciamo, e rappresenta l'effettivo costo del servizio, quindi trasferisce sui cittadini l'effettivo costo del servizio. Peraltro la normativa in questo senso sta cambiando, in Italia è recentemente cambiata e quindi credo che anche il Comune di Milano dovrà aggiornare il suo sistema di tassazione e tariffazione e quindi auspichiamo, credo che si andrà in questo modo. Perché ad oggi si paga non sul servizio, ma anche un appartamento vuoto, non in base al peso di rifiuti che si vede. E quindi questo è vero che è un effetto meno coinvolgente e meno convincente nei confronti dei cittadini. Comunque immagino che veder la città pulita, libera dai rifiuti e comportarsi secondo le regole debba dare ai cittadini di Milano un orgoglio, un senso di appartenenza al proprio territorio che va oltre il significato economico. Allora noi stiamo vedendo tante immagini, chiedo invece tecnicamente un'informazione che può essere utile e interessante per tutti. I rifiuti che fine fanno? Perché abbiamo detto che buona parte è in riciclo e quindi la carta riprende il processo e torna ad essere carta, il vetro, altrettanto e così via. Però se dovessimo dividere in percentuali i rifiuti di Milano che comprendono per esempio anche lo spazzamento strade e quant'altro. Beh intanto c'è una novità importante perché da un paio d'anni è in funzione un impianto che recupera dalle terre di spazzamento che sono i rifiuti che noi spaziamo della ghiaia quindi è un impianto che riesce a recuperare addirittura dalla pulizia delle strade. Per quanto attiene invece gli altri rifiuti ovviamente la plastica va in impianti di recupero che poi hanno una destinazione differente ci sono anche dei maglioni che vengono ovviamente prodotti attraverso anche il recupero dalla plastica, la carta viene riciclata, il rifiuto organico che comunque noi raccogliamo presso le grandi utenze nei comuni finisce in pianti dove viene prodotto sia l'energia che si chiamano di digestione anaerobica nonché del fertilizzante quindi sono tutti materiali che vengono recuperati quindi l'approccio, la differenziazione non è punitiva nei confronti del cittadino anzi è migliorativa e questo consente, lo ricordo, perché AMSA non è che guadagna sul recupero dei materiali li porta a scomputo dei costi che ha il comune ovviamente in riferimento alla pulizia, allo sbattimento. Volevo tornare però poi, perché prima Mocera poi c'eravamo dimenticato, aveva inserito degli argomenti sulla questione ancora del patto che i cittadini hanno con AMSA e così via, con qualche specifica e il Presidente può rispondere. Certo, se posso aggiungo ancora una questione che cosa succede degli altri rifiuti che non vengono raccolti differenziatamente conferiti ai consorzi obbligatori per il recupero il restante 56% viene portato tutto all'impianto di incenerimento di AMSA che sta a Figino che brucia questi rifiuti e da questi rifiuti ricava energia elettrica e calore per il teleriscaldamento. Che sta propagandosi sempre di più il teleriscaldamento sono dei lavori in corso nel Gallaratese. Certo, e oltre 20.000 famiglie saranno servite a breve dal teleriscaldamento grazie appunto al calore prodotto da questo impianto. Quindi nessun chilo viene portato direttamente a discarica e questo credo sia un vanto della nostra città e della nostra organizzazione. La risposta a Federconsumatori invece? Brevissimamente, da quest'anno abbiamo inserito credo il riferimento esplicito alle sanzioni c'è ancora da fare di più sono d'accordo sulla illustrazione dei modi in cui queste sanzioni vengono applicate lo faremo con la prossima carta di servizio è uno degli obiettivi di miglioramento che ci poniamo insieme. Telefonata da casa, pronto? Chi è in linea? Buongiorno. Buongiorno. Senta una cosa, ho un problema di trasparenza in legalità. La signora Namsa dice che c'è un gruppo di accertatori pubblici ufficiali, penso, che fluggono tra i rifiuti se trovano qualche anomania danno le multe. Due domande. Questi controlli avvengono in contraddittorio con il condominio, con il rappresentante in modo da poter contestare qualcosa? Oppure la sola parola dell'accertatore che dice io ho rilevato questo ti do una multa tu non puoi contestare perché lo dico io. Eh, vabbè, ma non capisco. Scusi, è come se il vigile urbano mi dà una multa e io non posso andare né a giudice di pace né niente perché la sua parola non può essere contestata. Allora, proviamo. L'accertatore dice io ho trovato questo ma la sua parola fa legge. Beh, sarebbe anomalo dicesse una cosa per l'altra perché non è che stiamo parlando di... Allora, dico, perché quando fanno questi accertamenti non c'è un rappresentante del condominio che può fare un contraddittorio? Cioè un testimone, lei dice, no? Qualcuno che controlli che l'accertatore stia accertando al meglio. Perché chiaramente è un pubblico ufficiale. Certo, certo. Allora, proviamo a rispondere. Un problema che non avevo mai considerato proviamo a rispondere. Di che si tratta... È giusto l'opinione che si è fatta? No, beh, insomma, qualche informazione che spero possa essere utile. Eventualmente se il nostro ascoltatore telefona al nostro contact center dopo daremo i riferimenti gli potremo dare anche delle informazioni più precise. In linea di massima siccome noi quando andiamo a fare il controllo non abbiamo la immediata disponibilità del cittadino per fare il controllo in contraddittorio Comunque ovviamente viene salvaguardata la possibilità del cittadino di ricorrere alla polizia di fare ricorre alla polizia municipale e poi al giudice di pace. Insomma, come avviene per le multe? Mi scuso di non poter essere più precisa rispetto all'ITER. Cioè, se l'accertatore dice nel sacco della carta c'era dentro che so io il vetro punto. Quello è un dato oggettivo. No, però bisogna dipende perché i controlli noi li facciamo sia nei contenitori dei condomini sia nei cestini stradali quindi nel cestino stradale è evidentemente diverso. La multa non può essere data a nessuno. Su questo argomento mi inserisco perché sempre parlando della carta qualità dei servizi oggi sono monotono me ne... Sì, ma anche il lavoro fisso è monotono. non si preoccupi siamo pieni di monotonia a sto paese ci annoiamo. Spero di non rischiare quanto ha rischiato Monti con questa frase. Comunque, in ogni caso nella carta qualità dei servizi 2011 che non è mai stata pubblicata e io spero in quella 2012 che sia molto più preciso manca sostanzialmente una procedura di reclamo. Nell'11 c'è un foglio di carta dove uno può fare un reclamo e manca la procedura di conciliazione cioè prima di arrivare alla contestazione delle multe e quindi giudice di pace le cose che sono state dette come le normali multe anche quelle stradali manca all'interno del dialogo con manca insomma è stato introdotto in quella 2011 dovrà secondo me essere amplificata in quella del 2012 queste due queste due cose e questo aiuterà molto aiuterà molto aiuterà molto alla conciliazione si può fare meglio chi vuole rispondere? D'accordo perfetto sono d'accordo è una miglioria però va chiarito che la stessa modalità con i quali noi cioè siccome la multa che noi combiniamo non è una multa che viene effettuata e ha in cassa è una multa che viene effettuata per conto del comune di Milano la procedura riguarda tutte le multe che la vigilanza del comune combina ovviamente però c'è una particolarità che siccome i sacchi delle immondizie vanno portati fuori entro a una certa ora del mattino sette e mezza otto i vostri accertatori passano alle sei e trenta sei e quaranta quindi è impossibile che il portiere o l'addetto alle pulizie è incontraddittorio con controlli perché l'orario di servizio dei dipendenti degli immobili parte a una certa ora quando il servizio immondizie si è compiuto giustamente per esempio mi permetto di precisare che non è che noi passiamo contestualmente alla raccolta no no certamente noi passiamo io le multe in genere noi le combiniamo dopo che i cassonetti sono esposti da un paio d'ore poi può essere se c'è questa segnalazione non è un problema ad avvertire la nostra organizzazione ad agire in maniera un po' più dilatata comunque dall'orario che si riscontra sulle contravenzioni che arrivano le multe sono fatte dalle sei e un quarto alle sette del mattino ecco vorrei precisare però che il nostro obiettivo non è dare multe e migliorare la raccolta differenziata vorrei essere chiaro perché se no rischiamo di focalizzarci su un tema ultima interruzione poi torniamo di nuovo in diretta parliamo ancora di un altro aspetto interessante vorrei capire anche io quanto è il costo che AMSA deve in qualche modo sobbarcarsi della pulizia degli incivili che decidono di scrivere sui muri breve interruzione tra poco non la fate più grazie a tutti la buona lettura della settimana come sempre in edicola il giornalino per i ragazzi tanti fumetti questa settimana in copertina all'ombra del campanile rosso bella storia bello anche il disegno non l'avevo mai visto molto simpatico per i più piccoli è in edicola come sempre edizioni San Paolo allora dicevamo poco fa che un'altra delle situazioni che doveva affrontare AMSA era quella della pulizia delle scritte che era in capo ad AMSA fin tanto che il comune ha potuto gestire la pulizia e anche eventualmente le multe per quanto riguardava appunto quei maleducati che scrivono sui muri ora non è più così perché è arrivata appunto la sentenza del TAR ma per diverso tempo lo avete fatto con grandi costi ora non lo fate quindi a chi sta questo lavoro? a nessuno? non viene più fatto? come funziona? no allora preciso è dal 2009 appunto che non lo facciamo più ha seguito questa sentenza del TAR e quindi del Consiglio di Stato noi questo servizio lo facciamo ma per i privati e su pagamento il comune si sta attrezzando per fare una gara perché noi potremmo farlo ma non in privativa diciamo così in virtù del contratto che già abbiamo firmato col comune di Milano il comune di Milano farà una gara e chi vincerà la gara provvederà alla polizia non è possibile inserirlo tra i servizi alla città sarebbe troppo costoso perché è un servizio sul mercato e quindi deve essere oggetto di gara e non può essere oggetto di privati nel sito c'è perché noi lo facciamo con diversi condomini è chiaro però voglio dire lo fate come privati assolutamente lo facciamo come privati nei servizi che loro fanno c'è anche questo a pagamento c'è scritto solo che l'ente pubblico per affidare a qualcuno servizio per fare una gara quando si parla di pulizia delle città spesso all'estero ci si guarda in giro e dice questa sì che è una città pulita guarda neanche una scritta sui muri noi invece ne abbiamo troppo purtroppo sì l'AMSA fa come diceva prima la presidente fa questo servizio in abbonamento contratto annuale contratto biennale contratto anche più lunghi passano periodicamente e se in una settimana su una facciata le scritture sono sette l'AMSA passa sette volte in questo caso probabilmente il servizio sarà pesantemente negativo dal punto di vista economico se invece in una zona dove c'è l'abbonamento e i graffitari non passano il costo per l'AMSA non ci sarà e sarà un piccolo ricavo qui però qui però è una questione di maleducazione profondissima qualcuno lo chiama disagio a me sembra maleducazione punto non so come dovremmo dare dei muri dei grandi muri in periferia dove questi artisti possano mestrinsecare la loro ma se li comprassero i muri non ho capito perché dobbiamo dare dobbiamo dare a chi ormai che i cittadini sono maleducati noi credo che non dobbiamo fare così non sia giusto fare così io dico sempre che i cittadini sono poco informati o non giustamente sollecitati a fare il loro dovere dopodiché no prego prego sì sì dopodiché secondo me questo tema dei writer ha due valenze uno sicuramente appunto convincente con un col senso di utilità se cresce il senso di utilità pubblica quindi se si danno più informazioni sui disagi che derivano per tutti da non rispettare le regole io credo che tutti siano più incentivati ad abbandonare le loro cattive abitudini ma secondo me c'è anche un gusto della trasgressione che è proprio intrisego questo modo di fare per cui bisogna individuare degli spazi dove questo può avvenire c'era un titolo che era le sfide per una città più verde la sfida più grande per voi è quella dell'umido immagino da qui a 12 mesi un anno quindi rendere come già è tra l'altro nella provincia la raccolta dell'umido anche a Milano possibile sì assolutamente abbiamo messo a punto un piano veramente ambizioso perché ovviamente un sistema di raccolta esteso a tutta la città di una frazione comporta investimenti uomini organizzazione e progettazione quindi è un elemento importante di progettazione abbastanza particolare perché come voi sapete noi facciamo la raccolta dei rifiuti per il 95% nelle ore del mattino c'è solo una parte residuale nel pomeriggio e quindi l'organizzazione è un'organizzazione piuttosto complessa così come lo è del resto anche per la pulizia della città abbiamo finito il tempo se volete scrivermi grazie Sonia Cantoni presidente AMSA Dario Guazzoni presidente Anaci Gian Mario Mocera presidente federal consumatori tre presidenti oggi e Mauro De Cillis responsabile operativo AMSA grazie di essere stati qui grazie a voi di averci seguito e di averci chiamato a seguire l'informazione poi Michele Lanati sul canale 14 e sul 664 per parlare di sport ci ritroviamo ore 15 sul canale 664 di nuovo in diretta grazie dell'ascolto buona giornata buona giornata grazie